E' tempo di Portal 2 con Snake! Baaaaaah! Ciao a tutti, rieccoci, scoperto come fare, semplicemente mettiamo il nome della mappa, ciao. Perché il nostro gioco non è... Ok già vedo, più o meno, come si fa. Sali. Eeeh, sì. Ah ho capito, metterlo al posto di quello mio. Metti quello arancione, quello che hai. Salta! Eeeeeeeh! Ho povera di felare, salta e ci sono caduti in testo. Sì, in punto. Già finita. No, no, ok. No, no, no. Se non mi bisogna andare qua. In un attimo, accorciare la palla. Ha capito. Vai. No, io dirai di farlo lì prima. Guarda, cosa si intendeva. E qua. Eh ma c'è anche sopra. Eh, dove se c'è anch'io là. Ok, aspetta. Aspetta, vado io. Sali. E qua lì. Ok. Deve arrivare laggiù. Eh, lì non lo so come metterlo. Tranquillo. Eh. Sono un idiota, scusa. Mi puoi rimettere. Mettitelo tu. Mettitelo là sopra. E qua lì. Perfetto. Giubanji. Solo manca avere un pizzerla. Caduta la palla mia. Ok. Da fine, già pensavo che mi ammazzavi. Ciao. Bye. Ok, veniamo smontati. Tu mi ricordi sempre di più una Pokéball P-Body Ok mi si è aperta la console di comando per la prima volta Per un secondo Bello Mi si è aperta la console di comando per la prima volta Stiamo caricando Infinity Train Che in realtà è un Infinity Train Che comunque non serve perché adesso abbiamo tutta la lista delle mappe Ah buon ora vaffanculo Cos'è quello? E' un pene E' un artiglio Allora Dove bisogna buttare Ok ho capito che bisogna fare un salto però Uno adesso lì e l'altro Ah l'altro qua No fermo Ah ho capito Andiamo mettiamo uno sotto l'altro Vai tu Sì ma sei un idiota Oh sì Devo farlo io Devo spostarti io poi il portale Genio Ah è vero Hai sbagliato qua Ho cannato Averlo mettere con l'altro Eh sì però se io non lo apri cazzo Senti Errore tecnico pratico Errore tecnicico pratico Errore tecnicario si Vaffanculo Apri lo stavolta Vai Il portale Ma lo devi fare tu mi sta Premi Ah sì vero Prende a farlo anche io Quello blu eh No, quello viola Vabbè, il tasto Yeppali Trono Che bella G360 Notare che abbiamo speso quattro minuti per fare i due ribelli? Vabbè Praticamente quattro o cinque minuti Tu cosa ne sai? Oh, l'orologio era mai Merda mio Ah, ah, ah beh Aspetta che accendo anche la luce, va? Ok, intanto io dirò la mappa che stiamo per fare Tanto per farlo Tanto per Along 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 Pum Pum 0-3 Wow, facciamo questo, poi stiamo dire Qua ci vuole c'è una palla Mettiamo nemmeno la possibilità Vedo un coso solo del salto Lì si scende Just look at how much better you are Yee Blu Beh, era prevedibile Blu sei un ottimo esempio Eh beh Stupido Stupido Io l'avrei anche capito Andre qua Uno l'ha, uno l'ha e poi di là il salto Mi spari tu? Si va Eh, aspetta però, devo scendere di qua io Eeeh Quale è? Aspetta Blu Aia Sei scrantellato proprio Ah già aspetta Vai Prendi la palla Devi prenderla tu Ok e rimane lì sopra che non vorrei fare Tiene un verde La palla è rimasta su No hai caduto sulla palla È un idiota Si era salvata la palla Dettagli Come uccidere La palla Dai muoviti Come hai fatto? Ti ho visto volare Sono un mago Adesso però come fa? No fermo che si si distrugge Aspetta Allora me la passi tu Ok ce l'ho fatta Ok Beh non era così difficile Beh non era così difficile E' anche troppo Yeah Thanks for proving them wrong Ok Ok Yes, montiamo No a me smontano che figli hanno qualcosa nel culo Non so, non so Eh ciao Guarda se vina pokeball in quella schematica dei caricamenti Sì Io cosa sembro? Una navicella spaziale Ma se sembri tipo uno con i jeans a vita altra Il ragazzo è un vecchio Può essere Ok Di soppare Ci sei della persona a parte Ciao 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 Ciao